buongiorno a tutti e buon sabato 20 maggio oggi abbiamo una rassegna stampa molto corposa tutta dedicata quasi interamente dedicata a tutto quello che ha successo in questa settimana di enorme maltempo a tutti i danni che si sono verificati ma iniziamo la nostra giornata e andiamo a vedere qual è il santo di oggi e cosa si festeggia allora oggi si festeggia san bernardino da siena sacerdote ascoltato da papi e analfabeti per il suo stile di predicazione senza bizantinismi bernardino da siena è uno dei santi francescani più noti e un grande riformatore del suo ordine del quindicesimo secolo viene proclamato santo da niccolò quinto nel 1450 appena sei anni dopo la sua morte e vediamo le previsioni del tempo purtroppo siamo ancora ad attendere il solito sole abbiamo diciamo ancora ad attendere fino a domenica cioè fino a domani poi lunedì finalmente si alzano le temperature per arrivare fino a una massima di 23 gradi oggi il tempo è in modesto peggioramento con piogge sparse più intense nelle zone interne le temperature sono ancora fresche e al di sotto della media e allora apriamo questa nostra rassegna stampa abbiamo corriere adriatico e resto del carlino io partirei subito dal corriere adriatico ecco qua fango l'esercito dei volontari già 230 le persone che si sono rese disponibili a dare una mano alle famiglie colpite dall'alluvioni perugine di perugini dichiara tanti giovani e donne il comune ha lanciato l'invito ma la risposta poi è stata corale e andiamo subito a vedere la pagina 6 eccolo qua l'articolo viene ampliamente sviluppato l'esercito dei volontari per le famiglie nel fango rispondono in 230 ieri i primi aiutanti a loreto e a vismara perugini ribadisce solidarietà commovente ammontano a 600 mila euro le richieste danni da privati e qui vediamo foto del gruppo dei volontari che guidati dagli uomini della protezione civile ieri hanno aiutato a ripulire le case delle famiglie in zona loreto restiamo sempre sul discorso dell'alluvione sopralluogo di acquaroli portiamo i danni a roma frane si aggrava la situazione delle strade altre tre provinciali chiuse intanto altre tre strade provinciali si sono aggiunte ieri alla lista delle arterie chiuse a causa dei danni del maltempo si tratta della strada provinciale 94 monterolo strada provinciale 81 san paterniano e strada provinciale 98 furlo monte tutte queste strade sono chiuse per dissesti attenzione quindi nel caso qualcuno volesse fare magari delle escursioni o delle gite anche se il tempo sinceramente non lo permette il bilancio è questo quasi 1400 interventi per arginare l'emergenza il prefetto dichiara determinante in questo caso è stato il gioco di squadra ecco ancora san bartolo siamo sempre nella zona di pesaro siamo sempre sul corriere radiatico le frane sono 50 ci vogliono tecnici e fondi da martedì sul colle si susseguono gli smottamenti attenzione gli appelli si rinnova il sollecito ai ciclisti non andate sulla panoramica il monte san bartolo è un monte meraviglioso per i motociclisti perché ci sono veramente degli scenari meravigliosi da vedere in moto ma purtroppo in questo momento è meglio evitare perché il maltempo ha causato delle frane importanti per cui anche con la moto c'è poi anche la possibilità di scivolare bisogna stare molti molto attenti e quindi questi abbiamo visto sono quello che ci presenta il corriere adriatico quindi è molto poi lo andremo a vedere sul resto del cardino è molto più sviluppato tutta la problematica relativa all'inondazione sempre il corriere adriatico ci dice fondi pnrr quasi 2 milioni in più per i costi lievitati lo troviamo a pagina 11 ecco qua l'articolo fondi pnrr per i costi lievitati arrivano quasi 2 milioni in più mattioli montesi lunedì il consiglio vota la variazione al piano delle operi martedì prima materie prime più care arrivano a pesaro dal ministero 1,7 milioni di euro per sbloccare appalti e cantieri nel consiglio comunale di lunedì ci sarà all'ordine del giorno una variazione al piano delle opere triennale nel quale verrà inserita la cifra di 1 milione e 742 mila euro assegnata dal ministero dell'economia e della finanza costanziamenti del fondo opere indifferibili al comune di pesaro e qui fa vedere che anche palazzo almerici è interessato ai fondi del pnrr poi sempre tornando in prima pagina andiamo direttamente a vedere invece quali sono le notizie che riguardano fano fano apre la rassegna stampa di questa mattina con bastione sangallo c'è un progetto per concorrere al bando regionale cioè recupero delle mura storiche l'obiettivo è eliminare barriere ed elevare la capienza della struttura rampa d'accesso già da tempo sostituita camminamento lungo viale 22 settembre con illuminazione incorporata in fase di allestimento per 156 mila euro ma per ridare lustro e garantire un pieno utilizzo a bastione sangallo ancora questi soldi non bastano occorre operare anche all'interno del fortalizio per renderlo sempre meglio fruibile dal più elevato numero di persone ampliando il raggio di condivisione di quegli spazi così suggestivi anche a chi lamenta problemi di mobilità un intervento di grande valore ispirato anche alla funzionalità che consentirà di elevare la capienza questo in effetti è un punto dove anche d'estate si svolgono concerti manifestazioni per cui è importante quando c'è tanta gente chiaramente cercare di avere tutto quello che può essere utile anche alle persone disabili per l'ingresso sempre a Fano barricate contro il sottopasso stravolgerà via le Cairoli lo ricordiamo oggi alle 17 c'è il sitino organizzato da 5 associazioni locali in difesa dei famosi platani il modo di riaffermarsi sul campo l'ostilità al progetto di ampliamento del sottopasso di viale Cairoli nasce con questa connotazione il sitino che Argonauta ricordiamo Lupus in Fabola Italia Nostra Legambiente Fano e Associazione di Mori Storico delle Marche hanno apparecchiato per oggi alle 17 a fianco dell'imbocco dell'attuale sottopasso nello slargo tra viale Cairoli e via Filzi mobilitati tutti quelli che intendono mettersi di traverso a un sottopasso senza alberi e privo di qualità architettoniche sono quindi tutti invitati alle ore 17 a partecipare eventualmente a questa manifestazione Restiamo sempre a Fano e vediamo invece cosa succede nel collegamento tra Lido e Arzilla E' stato riaperto il ponticello pedonale Era stata una chiusura precauzionale, aveva detto Brunori, la stabilità di questo ponte non era mai stata messa in discussione E' stato quindi riaperto ieri il ponticello pedonale tra Lido e Arzilla Nella mattinata è stato infatti riportato del terreno per compensare la profonda erosione in corrispondenza dell'infrastruttura che era stata chiusa a martedì scorso a titolo preacuziano Per cui possiamo dire che si può fare questo passaggio Vediamo la Valmetauro Ottima gestione dell'Enel e gli invasi sono necessari Il sindaco di Fossombrone chiede condivisione sulle opere di contenimento dell'acqua Ringrazio pubblicamente l'Enel per come i suoi tecnici hanno gestito le dighe Fronteggiando al meglio la grande massa di acqua che si è riversata violentemente lungo la vallata a seguito dell'enorme quantità di pioggia caduta La piena del metauro non ha provocato danni particolari Proprio perché a monte di tutto si è svolto in modo razionale Commenta il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni Ed ancora sempre a San Filippo l'intera giornata Oggi è dedicata al fisico forse impronese Giuseppe Occhialini Con un convegno Ci spostiamo in Val Cesano e qua invece parliamo di calcio in campo Il calcio del futuro, uno stage con Di Francesco Il mister a Mondavio, ospite del Della Rovere Formazione tra lavagna e pratica L'associazione italiana Allenatori Calcio di Pesaro ha organizzato l'incronto di aggiornamento tecnico Per allenatori sull'evoluzione del calcio moderno In collaborazione con la società Della Rovere Calcio Che ha messo a disposizione le strutture e i ragazzi della categoria Juniors Allora torniamo a questo punto come dicevamo No, facciamo ancora, restiamo ancora su Senigallia Vediamo a Senigallia l'articolo Shock, è il caso, shock alla fondazione città di Senigallia Una lettera minatoria al commissario La scritta sotto un uomo appeso Questa è la fine che farai Canafoglia E lui ribatte clima ostile attorno a me Cos'è successo? Questa è la fine che facciamo fare ai fascisti Come lei, avvocato Canafoglia Recita così il contenuto di una lettera minatoria Recapitata alla fondazione città di Senigallia Sotto la scritta appare il disegno di un uomo appeso a testa in giù È evidente il riferimento a Piazzale Loreto Dove vennero esposti i cadaveri di Benito Mussolini Avevo chiesto la massima collaborazione Per una soluzione concreta dei problemi che affliggono la fondazione Spiega l'avvocato Corrado Canafoglia Per tutta risposta ho ricevute oltre ad attacchi sui media Con argomentazioni difficili da comprendere L'ennesima lettera minatoria Riprendo a questo punto il resto del Carlino E vediamo il resto del Carlino Cosa ci dice su quello che è successo in questi giorni A parte l'apertura puscera alla riconquista del parco Usciti dal carceri dopo la maxi eretata Rieccoli a Miralfiore Ieri furono fuori bondalite nella boscaglia di via Cimarosa Ma andiamo a vedere subito la situazione di cui parlavamo prima Ossia quella che riguarda tutto quello che è successo alla nostra regione E anche alla vicina Emilia Romagna per quanto riguarda l'alluvione Monte Grimano a terra Il sindaco al governatore Rischiamo il blackout Sasso Corvaro chiede aiuto Daniele Grossi Ci sono aree come San Donato in Taviglione Che usano strade di sopravvivenza Ed ancora ecco qua Ieri Acquaroli ha fatto un giro tra le case degli alluvionati Noi sommersi dall'acqua Guardi come siamo ridotti Il presidente è stato in visita ieri pomeriggio Alla Torraccia a Cattabrighe Bassa e a Vismara Il mantempo ha mandato capò anche il campo da calcio Danni per oltre 300 mila euro Il governatore Francesco Acquarola ha iniziato ieri pomeriggio La sua visita a Pesaro All'interno dei quartieri più colpiti dall'alluvione Dopo aver fatto tappa anche a Gabice Sasso Corvaro, Monte Grimano e Auditore E' andato a vedere tutta la situazione Casa inagibile per la seconda volta Stavolta è peggio Il governatore ha visitato anche la Carfer Ripartita dopo giorni Quindi lui ha fatto un giro per capire veramente la furia del diluvio Ed ancora passiamo a Monte San Bartolo L'abbiamo ritrovato anche sul Corriere Adriatico Che disastro sul San Bartolo Almeno 50 trafrane e smottamenti Ora liberiamo le strade dal fango Situazione difficile sul colle Sentieri chiusi Ma il problema più complicato è a Vallugola Le 36 auto devastate dal fango Nel parcheggio i dannati e i salvati Pesaro parcheggi copre fino a 30.000 euro Chi ha veicoli che valevano di più Recupera solo se prima era assicurato Cioè cosa succede? Succede questo Chi martedì scorso aveva l'auto nel parcheggio del tribunale Che poi è stata devastata dal fango Può ottenere dalla società la cifra Che coprirà il valore commerciale Che aveva la sua auto il giorno dell'alluvione Il problema è per chi aveva auto che valevano molto di più E non possono risalcire il danno Perché non avevano sottoscritto privatamente Un'assicurazione che li coprisse dai venti atmosferici In questo caso chi aveva delle auto che avevano un valore superiore A quanto detto purtroppo ha perso i soldi Andiamo invece su un fatto di cronaca Abbiamo più o meno visto tutto quello che è successo Per quanto riguarda le frane Le frane al San Bartolo Tutto quello che è stato appunto Cercare di riconquistare un po' di tranquillità Dopo quello che è successo E invece torna l'emergenza Mira al Fiore Mercato di Grogo Usciti dal carcere Si ricomincia I pusher riconquistano il parco Dopo la retata dei mesi scorsi Ieri furibondalite Tra spacciatori nella boscaglia di via Cimarosa Appello dei cittadini ai parlamentari Una legge per espellere i delinquenti E aiutare la polizia Andiamo invece alle pagine di Fano Del resto del Carlino Arzilla Un'alluvione di discorsi Ma i residenti hanno davvero paura Gli abitanti chiedono fatti Dove sono i finiti 100.000 euro Da investire per la sicurezza del torrente? Ci sono progetti per la sua bonifica? Dov'è il contratto di fiume? Di qual ente è la competenza? E qua andiamo appunto sul caso Il livello dell'acqua dell'Arzilla Scende ma non il timore dei residenti Che il fenomeno possa ripetersi E che la prossima volta Il torrente esondi di nuovo L'assessore Cora Fattori Non stiamo perdendo tempo Ci muoviamo insieme Comunque alla regione E non protestano solo Gli abitanti dell'Arzilla Ma protestano anche i bagnini Fango e sterpaglie Benvenuti a Fano Benvenuti a Fano Fango e sterpaglie ovunque In palcatura abbandonata Sulla riva destra del torrente Perché è caduta durante il mantempo Mentre il ponte tra Lido e Arzilla È stato riaperto Seppur un angolo rimane interdetto all'uso A causa dell'erosione Provocata nei giorni scorsi Dalla piena del torrente I bagnini sollecitano Maggiore attenzione Da parte dell'amministrazione comunale Perché hanno bisogno anche loro Di ripulire queste spiagge Che sono veramente piene di sterpaglie Di detriti Di fango melmoso Sempre a Fano Aiutateci ad aiutare Adamo cerca fondi L'appello con la voce della presidente Della ONLUS Che dà assistenza gratuita Ai malati oncologici È urgente il bisogno Di un altro medico È un appello Lanciato Quello lanciato Dall'associazione fanese Adamo La ONLUS Che offre assistenza domiciliare Gratuita Ai malati oncologici Che da vent'anni Assiste i pazienti Del nostro territorio In fase avanzata Di malattia Sono infatti Costantemente In difficoltà economiche Gli operatori Di Adamo Perché Pur essendo Un'associazione Di volontariato Che vive Di donazioni volontarie Hanno libro paga Uno staff di professionisti Senza i quali Non potrebbe svolgere Importante ruolo sociale Che rivestono Donatella Menchetti Dice La gran parte Delle nostre spese 200 mila euro l'anno Coperta dalle offerte Ma dopo la pandemia I costi Sono raddoppiati Sempre a Fano È stato rinviato Il nuovo mercato contadino A causa del maltempo Rinviato per il maltempo La nuova fiera Dei produttori agricoli Di cartocetto Denominata Viva viva Il mercato contadino Che doveva essere inaugurato Oggi pomeriggio In piazza È stata rimandata A Sadavato Prossimo 3 giugno Fano e Valcesano Abbiamo un articolo Dedicato ai 50 anni Di Giovanna Parrucchiera È il mestiere Più bello Del mondo Sant'Ippolito La carriera Della titolare Dell'air stylist Ho cominciato a lavorare Nel garage Di famiglia L'arte Imparata Da una collega Di Fano Poi La scuola Ad Ancona E ora L'aiutano Le figlie E nipote A 18 anni Appena compiuto E ha aperto Il suo primo negozio Da parrucchiera Nel garage Di famiglia E oggi A 50 anni Di distanza Con un salone Ampio Ed accogliente Ha ancora L'entusiasmo Del primo giorno E nonostante Abbia raggiunto L'età pensionabile È Giovanna Fabri Che domani Festeggerà I 10 lustri Di attività Con un evento Conviviale Insieme a centinaia Di clienti E amici Al ristorante Casa L'Ondei Urbino Invece Fa un viaggio Nella città By Night Così La sorvegliamo Al costez Ispezioni E occhio A chi sgarra Massima attenzione Anche Nei locali Della Movida I servizi Di utilità C'è chi perde Un portafoglio Che poi viene ritrovato Sospiro di sollievo Ad alta sorveglianza Le zone Più frequentati Dagli studenti Anche Quelle del centro Il maltempo Restiamo sempre Ad Urbino Presenta il conto Dieci Le frane Di rilievo Sopralluoghi Per analizzare L'onda lunga Dell'alluvione A Urbino Ed intorni Al momento Nessuna strada Interrotta Gambini Però dichiara È necessario Dichiarare Lo stato Di emergenza Fossombrone Dedica Invece La prima pagina A Cagli Capitale Del lento fumo C'è a Fossombrone La festa Nazionale Della PIPA Si inaugura oggi La ventitresima edizione Della manifestazione Riservata agli appassionati Nel centro Della città Verranno aperti Gli stand Dei numerosi Espositori Caccia Alle chicche Si inaugura oggi La ventitresima edizione Della festa nazionale Della PIPA Con l'allestimento Di diversi Gazzibo In piazza Matteotti Una manifestazione Che ha sempre Richiamato Produttori E tanti Appassionati Del lento fumo Da tutto il mondo Speriamo che il tempo Torniamo A Chiudere la nostra Rassegna stampa Di nuovo Sul Corriere Adriatico Dove Vediamo Che Eccola qua Volevo farvi vedere Fano Chiudiamo con una Notizia di sport Fano Vogliamo Farti felice Il centrocampista Urbinati Ci teniamo A regalare Una gioia Al presidente Russo E ai tifosi I biglietti Per la trasferta Di Senigallia Si potranno Acquistare In prevendita Fino A questa Sera Con questa Notizia Io chiuderei La nostra Rassegna stampa Abbiamo visto Che è stata Dedicata Quasi completamente Al disastro Che ha caratterizzato Questi giorni Spiagge Attività commerciali Stabilimenti Balneari Frane Che naturalmente Sono Tutti a lavoro In questo momento Tutte le forze Dell'ordine Al lavoro Per cercare Di ristabilire L'equilibrio Noi naturalmente Stiamo aspettando Il bel tempo Che naturalmente Con il caldo Anche tutto questo Potrebbe cominciare A risistemarsi Purtroppo Purtroppo oggi Piove ancora Quindi la situazione Non è ancora Delle migliori Però speriamo Che con lunedì Con il bel tempo Si possa ricominciare A sorridere A pensare Che abbiamo davanti Ancora una bella estate Con questo Io vi saluto Vi auguro Una buonissima giornata Un buon sabato Un buon weekend E vi invito Naturalmente Sempre a restare Con noi Sui programmi Di Fano TV Grazie E buona giornata